ciao allora oggi vi parlo delle ciprie dell'essence queste le prendiamone una mattefing compact power sono dei 12 grammi e io ho tutti e due i colori quindi le 01 natural beige e lo 02 soft beige come vedete le ho proprio finite quindi e qui ci sono il swatch delle ciprie compatte dal potere opacizzante ed è questa la cosa principale sono davvero opacizzanti fantastiche almeno a me piacciono tanto infatti le ho provate in tutti i due colori una per quando ero più chiara e una adesso e poi comunque sia ne ho già ricomprate perché io che ho la pelle mista trovo che queste qua soprattutto per fissare il trucco e poi anche per opacizzare la zona t sono perfette per un ritocco durante la giornata sono fantastiche e nel caso non si fosse capito e ne mi piacciono tantissimo anche quando sto fuori casa tutto il giorno perché non si spostano cosa dire i due colori sono molto simili tra di loro quindi non c'è molta differenza io le uso intanto per fissare il trucco perché è una cosa importante per me perché non mi piace il sentire l'appiccicato del fondo tinta sulla pelle e poi anche durante la giornata cioè voglio mi trucco la mattina il pomeriggio esco non sto a rifatto trucco mi do una passata guardo le zone lucide e sono a posto una cipria di queste mi dura tranquillamente un paio di mesi forse anche qualcosina in più con a differenza di quella cipria bianca quella trasparente sempre della essence che tende dopo un pochino a rompersi queste tranquillamente fino quasi alla fine non si rompono quindi altra cosa sono belle compatte a me piacciono tanto visto il prezzo che hanno io continuo a prenderle perché davvero mi piacciono mi piacciono e sono molto molto valide quindi fatemi sapere se voi le avete provate e come si trovate io spero come sempre che le mie recensioni vi siano utili e se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale per non perdere le prossime accensioni ciao